Si è diplomata all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, Silvio D'Amico, nel 1988. Ha lavorato in numerose produzioni del Piccolo Teatro di Milano, dirette dal grande Luca Ronconi. Nel 1988 vinse il premio UB come migliore attrice giovane. Nonché una menzione speciale per il premio Eleonora Duse. Il suo esordio cinematografico è nel 1993, in fiorile dei fratelli Taviani. Negli anni successivi alterna ruoli teatrali a parti cinematografiche, e talvolta anche a partecipazioni in fiction televisive. Nel 2012 le viene assegnato il premio Eleonora Duse. A partire dal marzo 2014 inizia a recitare nella sopopera Cento vetrine con il ruolo di Emma. Saint Germain, è sposata dal 1987 con Marco Andriolo dal quale ha avuto tre figli. Leucotea, 1996, Eco, 1999, e Cadmo, 2007.